Buongiorno, Orchideria di Murosola, Orchideria Medicina per l'Anima. Vi ricordo sempre il nuovo libro, Orchideria Storia e Personaggi, quarta edizione, 572 pagine, sì. Lo potete trovare qui all'Orchideria oppure su Amazon. Ha tre grandi pregi e costa poco, semplicissimo, l'ho scritto io. Oggi volevo parlarvi, stanno fiorendo alcune bellissime catrè monofogliate, questa qui, la Pink & Press, ma ci sono tanti tipi di Orchideria, se ci abbiamo questa qui, qualcuna di queste qui fiorite, la Pink & Press, sono spettacolari, profumatissime, una volta si usavano molto come fiore reciso, è sempre stata considerata la regina delle Orchidee, è una pianta che ama moltissimo luce, molto molto luce, devono avere le foglie, sempre questo verde chiaro e opaco. Se la foglia è verde chiara e opaca, la pianta sarà fiorifera, robusta e resistente alle malattie. Se la foglia è bella verde, non fiorisce, perché è stata all'ombra, non ha avuto luce sufficiente, allora avete una bella pianta verde. Oltretutto, oltre che non fiorisce, fiorisce, sarà debole e soggetta ad obbalarsi facilmente. Questo invece è un libro di bifogliata, questa qui è la Brasso Catreia Bill Worsley, che sarebbe Brasso Nodosa per Catreia Orantiaca, adesso la Catreia Orantiaca è diventata Guariante Orantiaca. Questa, a differenza delle altre, mentre le grandi catreie monofogliate fioriscono una volta all'anno, questa qui, essendo un libro di nodosa, è rifiorente, fiorisce anche più volte all'anno e può fiorire in qualsiasi momento dell'anno la maturazione del nuovo bulbo. Allora, le grandi catreie, come dicevo, sono sempre state considerate le regine delle orchidee, sono distribuite dal Messico fino al nord dell'Argentina. C'erano diverse specie, appunto una volta era molto diffusa come fiore reciso ed era molto coltivata come fiore reciso. Tutti i fioristi l'avevano al centro della vetrina, era l'orchidea per l'altorobasia. Le catreie sono state la prima catreia, arrivata in Inghilterra casualmente, tramite un grande appassionato di piante che si chiamava William Cutley di Barnet in Inghilterra e lui aveva importato da Brasile delle piante tropicali, delle felci. E le catreie le avevano usate per imballare le felci. E quando gli è arrivata queste piante, imballate con queste strane piante, con queste foglie robuste così, si è messo a coltivarle e quando è fiorita la prima catreia, la prima catreia è fiorita nel 1818 da Catreia. È stata una roba che ha scomodo perché nessuno aveva mai visto un fiore così, con questa magnificenza, poi profumo, fantastica. La catreia labiata di William Cutley era più o meno di questo tipo qua, con i fiori magari anche un po' più grandi, magari non così rotondi, un po' più a sta forma di stella. La catreia labiata appunto è originale del Brasile. Comunque questo è un libro di catreia labiata. Poi nel 1824, John Lindley, che è stato uno dei più grandi botanici di sempre, l'ha classificata e l'ha registrata come il Gliato 9, catreia, in onore di catreia labiata per il grande labbro, il grande labello. Allora, come dicevo, tantissima luce. La cosa essenziale è tanta tanta luce. Per le catreie d'estate va bene prendere anche un po' di sole, evitando le ore centrali del giorno, prendere il sole del mattino fino alle 10, così, oppure del pomeriggio evitando le ore centrali del giorno. Poi le cose cambiano molto, perché è una cosa qui da noi a Varese o in Val d'Aosta e in Sicilia, Palermo e in altro ambiente. Vabbè, comunque questa è la catreia labiata, la regina delle orchidee. A domani. Ieri non abbiamo fatto il tempo di fare il video perché c'è stato da fare e l'abbiamo fatto tardi. Grazie.